buongiorno buonasera qui c'è da yoshi e siamo su una nuova puntata di pokémon kanto black con me abbiamo ancora una volta gamerlory 94 buongiorno buonasera e off screen ho fatto un po di allenamento portati tutti circa il 20 questi due non c'ho voglia potrei farlo con magistic ma vabbè invece in pizzo mi sta creando problemi perché nessuna zona attorno alla città è buona per lui quindi l'ho portato 19 ma ho dovuto usare ai condividi esperienza comunque un breve recap per quello che riguarda il team dato che ci sono stati vari cambiamenti come moveset poi un paio di evoluzioni e cose così questo purlo in ora è un leopard e abbiamo snarla non so come si dice in italiano urlo rabbia urlo rabbia abbiamo urlo rabbia come alternativa a morso perdeva fare l'attacco speciale potrebbe rivelarsi utile in palestra chi lo sa vediamo questa è oltre all'evoluzione l'unica novità per alex poi maverick ha imparato fire cutter ma a parte quello nient'altro poi in pizza imparato una serie di cose fire cutter rocciotomba poi gli ho fatto imparare levito roccia perché potrebbe rivelarsi utile nella prima palestra ha messo nella palestra ha messo appunto che non crolli dopo un singolo attacco acqua infatti probabilmente non lo tengo per quella dopo magari poi abbiamo magistic che è uguale fede viva imparato gli ho fatto imparare in seguimento giusto per copertura denti c'è è evoluto gli ho fatto imparare via tm power a punch e mi ha imparato ipnosi in evoluzione quindi con questi andremo a fare la palestra appunto c'è un po di magistic dato che è un pochino indietro che livelli aspetta la palestra è ghiaccio vero sì che è ghiaccio allora allora se la cava se la cava cosa un attimo mi è venuta mente adesso che la palestra è ghiaccio invece di acqua e in pizzo se la cava eh infatti ho l'impressione che watchhog e due ebble si divertiranno allora vediamo questo primo allenatore van in light però attenzione è anche abbastanza velozzo cioè a 55 però evolvendo si perde molta velocità tanto impara shell smash prima ho provato a impararmi rock polish ma ho detto nah tanto andare a cercare imparare shell smash quindi non ha senso mi son detta beh forse non era malazzo per gli hot speed perché ce ne sono due che sono veloci mh sì forse per la palestra hai ragione piuttosto che le vittoroccia magari mh vabbè ma le vittoroccia io lo userai sì è una delle due alternative onestamente davvero perché entrambe hanno la loro utilità in sta palestra bello che hanno fatto in modo il creatore che questi incontri fossero forzati quello lì era anche nel gioco original quello no in realtà mi sembra devi tipo andare davanti a misty per triggerarlo questa qua bydokai come ti pare non sono troppi problemi e perlomeno peccato che è 2 no 2.9 peccato gioco allora quanto rostrondeo non è andare può andare diamoci dentro proviamoci non so io sono intanto faccio i sisti davanti a misty nel caso succeda qualcosa salvataggio o cosa del genere quindi misty vediamo cosa fare io ho avuto problemi a partire dalla quarta all'inizio non era neanche particolarmente difficile ho giocato con tutte le sue importazioni la odio omega maura interessante la verità è una brutta abilità a lui non vuole ok interessante intanto cominciamo con le vitroce che ci aiuta ok anche interessante ma anche se avevi starvi è risultato dal danno residuale roccia tomba è neutrale vero? no super efficace anche tipo roccia ah bello ok ahia ah già si si vede dal fatto che non ho preso neutrale avrei dovuto prendere neutrale ma non l'ho preso si sono ora se non mi avesse paralizzato continuerei ma no diciamo che mi tiro fuori diciamo che mi tiro fuori ehm beh perchè no anche magister se la cava benissimo con magneto bomba come diavolo si chiama questa è resistita si resiste però ho un divano in velocità cazzo ok picchi amaura picchia non c'è un tappo special su 60 65 adesso è pienamente voluto non è anche però abiletto eh niente male cavolo credo ne abbia alcun altro adesso dovrebbe mandarti bergmite ha due a vigore che è saltato se ha vigore importa poco quindi eh eh no la questione adesso è sono più veloce di lui? ha una mossa a terra? non credo questo lo sfonda come no come? perchè è fisica? io ero convintissimo che fosse speciale questo è un abbo ah è fisica cazzarola convintissimo che fosse speciale venite bomba questa è un colpo speciale vabbè è morto lo stesso ok adesso gli uso ancora di poco non di livello basso si beh per il momento si un altro ok è più debole questo di quello di prima che mi farà ancora maledizione io sono quasi tentato di adesso di prendere e curare ciò che possa ice body uh ok interessante ah non ho stardi mi curo un pochettino voglio vedere cosa vuole fare mordermi ok non particolarmente pericoloso allora non sono ancora arrivato i peggiori beh certo li gestiamo quando è ora ovviamente ma no l'ora è speciale mi so no deve essere perchè non è molto poco speciale quello è il problema no sono stanzi sicuro che è speciale quindi per quello anche perchè bernet non ha ok ha deciso di superarmi eh da qualche ragione ha deciso di superarmi in velocità stavolta ok no rapid ospedalero rapido no bello aver spiegato è proprio comodo fantastico eh mi ricordo neanche se c'ho superpazioni ah si che ne ho guarda no finchè ha solo morso per colpirmi non sono preoccupato non ho niente praticamente solo che la grandile per il momento beh certo quello si a meno che non ha un remover ah beh ma forse perchè quello di forse è proprio bergmite mi supera in velocità adesso che sono a meno uno in generale ma quello di prima ha fatto maledizione e allora era più lento di me proprio che hai ragione vediamo chi manda aia ho il sospetto che questo abbia qualche attacco per colpirmi in super efficace no cosa avrà la destiny bond cos'è no ok allora ancora una volta credo che curerò per vedere cosa vuole fare attento che non ho molto tempo questo solo il flesso ah ok non allora adesso copriamo sul filo del cospetto solo eh dove sta andando allora beh entrambi gli schermi mi ha sparato il culo via quanto gli levo beh altrimenti se avessi fatto magnete bomba subito sarebbe morto allora il fisico ok credo che non vediamo quanto mi devi beh ma le auto di più quell'altro niente fa tutto magistic stavolta vabbè non mi lamenta col kriogonal ho brutte esperienze quindi sono contento di essermelo levato dall'albale così facilmente alcool a 2 ok questo forse è una mossa lotta forse beh non so se mi fido eh non so se mi fido ehm fatemi pensare un attimo stento pensare flos giusto ha ancora riflesso quindi e niente ehm purtroppo questa battaglia così devo ho tranquillamente la regia c'è la zona come si chiama germorso bo ehm allora gelodenti gelodenti ecco ma io me tanto ma ne bomba speciale quindi continua tranquillo se vuole debbaffarmi foto sega per qualche ragione sono più veloce sono tipo a meno 2 ok neanche avesse clear body ok secondo kriogonal vediamo un po' e lui ha un attacco più potente odio usare queste taliche qua solo per vedere cosa vogliono fare ma dato che se ho percetto che almeno un colpo lo vivo ok interessante per fortuna la bypasso quello è quella mosse perchè la bypasso perchè magnete bomba speciale ah ah ma più ricca quello quello è fisico lo so anch'io è caduto schermo luce ma sto ancora facendo un danno un po' eh niente dove avessi troppo uso com'è l'ho usato beh sicuro è una bacca bastardo damia se ha arrestato sbarri ma però quale può paralizzare eh sì quello anche forza segreta può paralizzare ok un altro un'altra bomba dovrebbe dovremmo essere apposta però puro perchè se parto in idropulsa dal nulla non voglio che che muoio per una cosa così stupida ma niente sto usando forza segreta non ho voglia di usare idropulsa se ce l'ha non è che ce l'aveva quell'altro può essere l'avevo usato non mi ricordo eh ecco ecco qua la paralisi ho bisogno per fortuna non importa yeah ci abbiamo fatta ok 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 no non ho avuto frequenti problemi uno che è difficile è il quarto quanto ci riesco quanto ci riesco una cosa ci rifiola prendere chi so io i see wind no i see wind no io in teoria posso scendere giù non mi ricordo neanche se abbiamo preso la tm dalla rocket no perché ti dovevi andare dietro a porte l'unico dietro a porte c'era il poliziotto l'unico modo per andare c'è battersi a misti che aiutare bill infatti adesso si può andare giusto ok abbiamo curato facciamo divertire un po' dentice che non sta facendo nulla da un po' prendiamo prendiamo sta tm e poi chiudiamo il video allora è durato sui 15 minuti si più o meno 15 infatti quindi se ci premiamo adesso siamo a posto veramente è una brutta idea ma mi fido del identice? swagger ok non mi fido di swagger quindi no perché già cosa è successo è in flux già tipo swagger contro uno che ha stab preferirei di no eh guarda che lui non picchia poco eh cioè 90 in attacco non è basso cioè è normale però si si va rado hanno paura di addis dello stab a quel livello lì quindi mi sono detto no no tirati fuori perché se no ok ok non credo che ci differa sento esatto ok i'm on fire ok dammi quella tm fossa questa fossa normale si torno a punto ok ehm giusto per vedere chi è che impara si win ehm 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 però ehm ah no bulldoze oh yes bulldoze ehm ehm su un pizzo sto pensando mm forse più avanti però più avanti dai mi tendo retto non so che cosa mi hanno usato speciale c'era 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 di vado di non è stab er min e non fa più non fa più molto il suo lavoro ma tu mi sei eeeh insomma fisico che speciale ah si che è fisico oh cazzo ero convinto che fosse speciale e toglieva anche se sono ah non ho troppo per cacero riflusso ahhh e lo dico che io credo li intanto giro attorno a acidarmor ahahahah invece è una stabbo buono invece il testo è ancora gestibile qui non ho ancora catturato nessuno vero vuole lo soppite lillo eeeh e che c'è e che alcuni non li ho ancora segnati quindi sarebbe da vedere questo è il percorso 5 si beh facciamo così controlliamo velocemente quelli che ho già allora 25 4 24 ok no non c'è nessuno eeeh allora dell'ultima volta che ho registrato ci sono eeeh 5 6 persone nuove che si sono iscritte al mio canale e quindi eeeh bunnyboy non è più tipo il più recente iscritto quindi devo partire da loro eeeh diciamo che mi 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 parcheggio anzi sto per dire mi parcheggio davanti al percorso 5 comunque poi chiudo il video ma prima controllo le pokeball che non ho meno male ho guardato se mi ricordo che avevi sprecato da tutte le poche un plombasculine con tante taccoli di cattura eeeh per basculine che triste che era eeeh 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 no non così tanto buon si può andare quindi ci basteranno bene buono ok è bilanciata quest'acron come? è bilanciata cioè non la curva significa sentire solo più in là eh meno male non è come quella che ho giocato io che proprio devi rigare dritto già dal primo a prescindere a prescindere eh eh se becchi uno subito con quel tiglio o no o no non lo posso lo dico eh meno male che non sto giocando una di quelle con quelle sbilanciate preferisco davvero non portarle perchè non ha non ha alcun senso eeeh è tutto dovuto alla fortuna un critico ti rovina sei fottuto almeno qua ti ti riesci a contenere fino a un certo punto anche in caos quindi per ora è tutto questo era il naslock di kanto black chaos e io sono shoyoshi se il video vi è piaciuto se volete vedere di più lasciate un commento mettete mi piace o iscrivetevi al mio canale detto questo per ora abbiamo concluso perciò ci vediamo come sempre in un prossimo video bella ciao